Credito agevolato fino a 50.000 euro con garanzia fino al 70% da parte di Credit Fidi attraverso le banche convenzionate. Un professionista specializzato a disposizione per la redazione di un business plan, formazione su marketing commerciale, pianificazione strategica e tanto altro attraverso la 4Me, agenzia di credito formativo di confartigianato Imprese Chieti, check-up per l'analisi dei fabbisogni dell'impresa. Sono questi i servizi messi a disposizione dall'iniziativa SuperStart, promossa dalla confartigianato provinciale di Chieti e da Credit Fidi. L'obiettivo è quello di favorire la creazione di nuove imprese, superando uno degli ostacoli più grandi che una start-up, ma anche aziende più anziane si trovano davanti in questo periodo di crisi, l'accesso al credito. Di fatto con l'iniziativa SuperStart noi andremo a sostenere non solo l'accesso al credito, che è l'aspetto che chiamiamo preponderante per la buona riuscita di un'impresa, ma andremo a dare tutta una serie di attività di supporto alle iniziative imprenditoriali, quindi una sorta di tutoraggio, di affiancamento per i giovani imprenditori affinché le loro iniziative possano evitare al minimo gli errori e possano quindi riuscire per il meglio. Non avere liquidità, credito per un'impresa, cosa vuol dire? Non avere liquidità ovviamente in questo momento è un problema vitale, vitale perché non si possono fare investimenti, non si possono creare nuove iniziative e quindi non avere l'accesso al credito per forza di cose è come se un'azienda camminasse con il freno a mano tirato.